La domanda è stato chiamato per indagare sui misteri del PD? No, anche perché sono molto oscuri, io poi non me ne intendo molto di politica pratica per cui non sarei in grado, no, 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 sono qui a parlare di misteri, ma i misteri dell'Italia direi che sono più consistenti. Poi siamo a Torino, una città misteriosa, magica, che pensa della scelta di Torino? È una città che a me è sempre piaciuta molto, io sono venuto tante volte perché insegnavo la scuola Olden, quindi c'è stato un periodo che venivo direi tutte le settimane, quindi l'ho vissuta parecchio. È una bellissima città, è molto misteriosa infatti, più nelle leggende che nella realtà, comunque è una città molto affascinante, in effetti ci sono poi anche tanti scrittori e soprattutto tanti scrittori di gialli di Torino a testimoniarlo. Anche dei delitti di Torino, giusto? Beh sì, ovviamente di cose ne sono successe anche qua, naturalmente, poi ci sono stati episodi, c'è la criminalità, c'è la mafia che è qua, insomma Torino fa parte dell'Italia e quindi si becca purtroppo tutti i problemi dell'Italia, però rimane comunque una delle città più belle, più affascinanti che abbiamo. A proposito di misteri d'Italia, qual è il mistero che l'appassiona di più? Beh, una domanda questa che mi fanno, io dico tutti, perché è difficile dirne uno, perché un attimo dopo te ne vengono in mente tutti gli altri, siccome sono tutti altrettanto importanti per la nostra storia, da Ustica a Bologna, a quello che è successo a Vilma Montesi, fino alla mafia, allora io ne ho preso uno, ne ho eletto uno per scelta e dico la strage di Bologna, perché sono bolognese, perché è un momento importantissimo della nostra storia, perché ci sono ancora tante cose da chiarire, quindi la strage del 2 agosto. A livello emozionale che cosa la colpisce di più di questo mistero? Beh, intanto che sia uno di quei misteri che non puoi, come dire, da cui non puoi sfuggire, uno di quegli eventi da cui non, voglio dire, quello che è successo a Piazza Fontana per esempio, a Milano, la bomba nella via dell'agricoltura, qualcuno sbagliando ovviamente, potremmo anche dire, vabbè ma io non vado in banca, quindi poteva non accadere a me, oppure non lo so, stragi di mafia, io non vivo a Palermo e quindi non accade a me, sono sciocchezza naturale, però Bologna è stata colpita la stazione da cui tutti prima o poi sono passati nella loro vita, io ho sempre conosciuto persone che c'erano passate due minuti prima, un'ora prima, tre giorni dopo, un anno dopo, bastava spostare il pallino sul calendario della strage per essere presi, allora è quello, è la prima, come dire, strage globale che colpisce un cittadino giapponese, come persone che abitano nel cuore di Bologna, esatto, che dovrebbe farci capire come tutti questi misteri sono altrettanto importanti e coinvolgenti. Lei in qualche sua intervista ha detto che molto spesso si tratta di cassetti da aprire e di cui spesso si sanno anche nomi e cognomi, ma purtroppo non si può fare nulla. No, si potrà fare, assolutamente, anzi si potrebbe fare, basterebbe abolire il segreto di Stato in maniera concreta, in parte è già stato abolito, ma rimangono tutta una serie di problemi, basterebbe aprirli quei cassetti, basterebbe una legge importante sulla trasparenza, basterebbe aprire gli archivi, dargli agli storici, stimolare la ricerca e sapremo tutto. Anche su quelle cose sulle quali la magistratura non può più fare niente perché è passato troppo tempo, sono in prescrizione, è finito, va bene. Perché non sono misteri questi qui, c'è sempre qualcuno che ha fatto una cosa di brutto, per esempio, magari una persona delle istituzioni cosiddette deviate, ma che subito dopo ha rilasciato un rapporto in triplice copia, per tanti motivi, perché è utile, perché serve, perché si deve fare così. Quel rapporto sta in un cassetto, in quel cassetto ci sono scritte molte cose, se non sta in un rapporto sta nella testa di qualcuno che magari se si decidesse a parlare risolverebbe un sacco di problemi. Invece, tornando al suo lavoro di scrittore, ma come fa a far diventare un fatto, un evento, un crimine efferato, un romanzo? Beh, io allora, sono due cose diverse, quando scrivo di fantasia mi distacco da quello che succede nella realtà, prendo uno spunto, che di solito è una cosa che è successa, che mi fa venire in mente una domanda, dopodiché lascio perdere quello spunto e scrivo di altre cose. Cerco di dare risposta a quelle domande mettendo in scena un'altra cosa, per cui raramente mi capita di, non so come, di passare oltre la cronaca per entrare nel romanzo. Poi faccio altre cose che sono quelle di raccontare con una tecnica che è da romanzo quello che è veramente accaduto, senza imbettare niente, mettendo solo in fila i fatti, cercando di creare delle emozioni come fa la narrativa. Allora in quel caso sì, come si fa? Bisogna averci, non dico il distacco, perché non ti puoi distaccare, perché se ti distaccassi emotivamente da quello che è successo racconteresti una storia come un'altra. Ci vuole un'altra cosa che è l'indignazione e la rabbia, allora sì. E questa indignazione ti porta anche ad avere la lucidità, quando ci riusciamo naturalmente, di mettere in fila i fatti e di vedere che cosa può essere realmente successo. Lei ha indagato fatti non solo italiani, non solo europei, ma anche che riguardano gli Stati Uniti e il resto del mondo. Che differenze ha riscontrato? Beh, allora non ho indagato molto in quel senso a livello internazionale, perché è difficile avere, in Italia magari riesci ad accedere a informazioni che indagando su fatti degli Stati Uniti o francesi non riusciresti mai. Però mi è capitato di leggerne tante di queste cose e di esaminarle anche, perché siccome l'Italia a livello di storia misteriosa vive all'interno di un contesto, che è il contesto mondiale, in un certo periodo quello della guerra fredda, eccetera, allora se vuoi sapere cosa succede in Italia devi sapere cosa è successo negli Stati Uniti, cosa succede in Francia, cosa succede in Russia, cosa succede in Libia, insomma. Sono paesi diversi dal nostro, non perché non abbiano avuto dei misteri, guardiamo gli Stati Uniti, hanno una storia altrettanto violenta, presidenti ammazzati, Kennedy, però sono paesi, alcuni di questi paesi hanno per tanti motivi una diversa stampa, se vogliamo, non più brava, ma semplicemente che si muove con spazi diversi, una diversa magistratura a volte. hanno avuto la capacità ogni tanto di tirarle fuori queste cose, e da noi invece questo ancora non è successo, è interessante capire perché. Se Bersani fosse uno dei personaggi dei suoi romanzi, chi sarebbe? Oddio, se fosse uno dei personaggi dei miei romanzi, intanto io scrivo romanzi abbiettati in Emilia-Romagna, quindi ci starebbe bene, essendo delle mie parti, per cui ci starà bene. Io lo metterei come, i protagonisti dei miei romanzi molte volte sono poliziotti, siccome c'è da capire un po' di cose, da indagare su un po' di cose, allora lo metterei come un detective, un poliziotto di un qualche commissariato, prenderei anche un commissariato, non le grandi questori, di un commissariato della provincia emiliana. In quale periodo storico? Eh, questo, no, adesso, adesso naturalmente, perché lo vedrei adesso, però non farei un giovane commissario, perché Bersani viene da una storia che è una storia comunque molto nostra, molto emiliana e quindi anche molto antica. Beh, farei Bersani con la sua età, eccetera. Oggi però, credo che le cose da affrontare siano oggi, non nel passato.